Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro DarkHouse92 92, 92, 92, 92, vabbè, comunque sono qui oggi per farvi vedere questo bellissimo video, io ringrazio Epic Games perchè ha inserito questa nuova, tra virgolette, modalità di creazione video sul sito di Fortnite direttamente dove praticamente è possibile prendere tutti i momenti della stagione 9, se così, dalla stagione 9 in poi penso prima, non mi ricordo, comunque dovrebbe essere così e praticamente fare una cosa, cioè creare un video molto carino, cioè praticamente una sorta di riepilogo della stagione 9 in questo caso io sono molto 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 felice di portarvelo perchè è molto carino e niente, vi ricordo di supportarmi come creatore nello shop Dark92, ma ovviamente magari avanti avanti nel video ci sarò io che ne parlerò di questa cosa e mi raccomando di iscrivervi al canale e attivare la campanella vi lascio con il video, buona visione Ciao! 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 Attenzione! Attenzione, attenzione! un piccolo bug, anzi un grosso bug nel sistema il codice creatore non è più DarkHouse92 ma è Dark92 quindi se vuoi supportarmi con il codice creatore inserisci Dark92 nello shop di Fortnite prima di shoppare mi raccomando boys thank you